Confronto a Palermo, all'Assemblea regionale siciliana, tra il sindaco di Gela, Domenico Versinese, il presidente della Commissione Ambiente, Mariella Maggio, il dirigente al servizio gestione infrastrutture del Dipartimento regionale Acqua, Francesco Greco, alla presenza dei deputati regionali Pino Federico e Giuseppe Arancio e Stavodore Gallo in rappresentanza del Consiglio Comunale. Si è parlato di dighe. Il primo cittadino gelese ha sottolineato che si sta lavorando ad un sistema integrato irriguo che mette in collegamento unico le dighe e le condotte in modo da assicurare al settore agricolo gli elementi indispensabili per continuare a produrre eccellenza nella nostra piana. Accolgo con soddisfazione ha aggiunto le rassicurazioni sui 20 milioni di euro stanziati dal Patto per il Sud a favore della diga di Sueri. Gli interventi strutturali previsti assicureranno stabilità al bacino grazie al consolidamento del costone e allo sfangamento dell'invaso in modo da ripristinarne il volume. Il progetto, che sarà redatto da tecnici della regione in collaborazione con alcune università italiane, ha spiegato ancora Messinese, potrebbe essere completo già agli inizi dell'anno prossimo. Altri interventi per 2 milioni e mezzo di euro sono previsti per la diga Comunelli. Consentiranno l'adeguamento dello scarico superficiale, il monitoraggio della struttura e la possibilità di aumentare l'attuale capacità di invaso del bacino. Infine, dopo anni di battaglie per la tutela del patrimonio naturale, abbiamo sollevato concretamente l'attenzione della Quarta Commissione all'Ars sugli interventi di disboscamento selvaggio che una ditta dell'Annese sta seguendo a monte delle dighe per alimentare una centrale a biomasse. Queste azioni responsabili di abbattimento degli alberi, che contrastano l'erosione dei terreni, vanno ad insabbiare le dighe, ha aggiunto Messinese, vanificando gli interventi per ridare l'acqua alle campagne della Piana di Gela, oltre a violentare gli habitat naturali e l'ecosistema presente in questa zona incontaminata della Sicilia. La questione sarà al centro di un tavolo regionale che si insederà anche per rivedere i dettagli della Convenzione e mettere in discussione tutte le irregolarità che si dovessero presentare.